Anche la cosa della questione dell'azienda di servizio si ripete per esempio con queste campagne di innovazione che stanno qua in mesi. Nove mesi senza stipendio non si capisce bene che devono fare altre società e che si partecipate. L'azienda, la legione vende le quote, fanno una società di scopo cosiddetta per cui si libera le mani da questa questione e la cosa viene lasciata là. Alla fine arrivano a proporre un contratto a tempo determinato a un lavoratore che ha più di 50 anni e insomma è una cosa veramente difficile da ricevere. Grazie a tutti.